Buongiorno a tutti, possiamo chiamare... Diciamo che è stato estremamente interessante questo passaggio, devo dire che quando uno va a queste assemblee e magari vieni un po' per... io sono arrivato presto stamattina, mi sono sentito tutti gli interventi, devo dire che è estremamente interessante, perché? Perché poi si parla di new economy, globalizzazione, piattaforme digitali, poi ti rendi conto che ho sentito diversi rappresentanti, due o tre persone mi ha colpito questa cosa, che hanno detto la mattina ci alziamo e alziamo la saracinesca, apriamo la porta dell'ufficio, cioè vuol dire... La saracinesca per tutti noi, per i milanesi la Claire, mio amico Grumetti poi si offende perché non... Questo fatto mi colpisce, perché poi alla fine voi state in prima linea, spesso si discute di tutto, la possibilità ormai di fare tantissime cose, ma poi avete questo ruolo, io dico anche tra virgolette, ne abbiamo parlato a volte in trasmissione sociale, perché vedete la persona che viene, che ha difficoltà, che cerca casa, che deve fare un terminato acquisto. L'altra cosa che mi colpiva, poi presentiamo tutti gli altri ospiti, le regole, no? E qui qualcuno ha detto le regole, perché ci sono gli abusivi, e voglio dire, l'abusivismo mi sembra un altro elemento che ormai si sta ampliamente diffondendo, no? Non solo nel vostro settore ma in tanti altri campi. E chiudiamo, avete chiuso, con questa cosa, io dico l'invasione di campo, perché queste banche hanno fatto una sorta di invasione di campo, ci avete raccontato queste trattative notturne, questa improvvisa dietrofronto che c'è stato, su una vicenda di cui parleremo, perché io direi di chiamare gli altri ospiti di questa tavola, partendo proprio da questo elemento, perché anche i consumatori, il cliente, il cittadino, deve avere paura di una banca che, qualche paura tra virgolette, per chiarità, che sono qua le banche, magari ci mandano subito qualche fulmine e ci colpiscono, ma in qualche modo hanno un capitale informativo le banche, di natura finanziaria, patrimoniale, eccetera, che in qualche modo rischia di mettere in difficoltà anche il cittadino che va in una filiale. Allora io direi di far venire sul palco il segretario nazionale della di Consum, Andrea Di Palma, e il presidente, prego, segretario, e il presidente di Confassociazione, Angelo Deiana. Io sto in piedi. Ti volevo dire una cosa, io qui ed uso, forse non lo sai, in questi due giorni, chiamare anche un associato, quindi se c'è un associato che viene qui e si siede con noi, perché poi il presidente, i vicepresidenti, i dirigenti, c'è qualcuno che alza la mano e ha voglia di parlare un attimo, uno sconosciuto, qualcuno che non sia presidente, che non sia... Non è sconosciuta. Lorenzo, che mi ha chiesto... Vieni. Venga, venga. Lorenzo Ciabilli, tra le sue caratteristiche, oltre ad essere un associato, è che è tifosissimo di Valentino Rossi. E quindi questa è la... Allora, presidente, visto che le ha chiamato, diciamo, uno della base, mi permettono i nostri amici, il presidente, il segretario e l'onorevole, però vogliamo sentire... Io partirei da questo rapporto difficile con le banche, perché, voglio dire, è qualcosa che in qualche modo rischia di penalizzare fortemente una categoria... Con le banche, però attenzione, con due banche... Con tutte le banche. Perché noi qui abbiamo tanti amici, abbiamo BNP Paribas, abbiamo anche tante altre convenzioni, quindi con questi due istituti, no? Allora, io direi proprio lei che rappresenta la base, un operatore. Che rischi ci sono sul territorio? Perché magari lei c'è l'agenzia e a fianco c'è una filiale di una di queste due banche. Noi nominiamo più, perché sennò diventa fra poco... Dobbiamo avere, se ci portate, un altro gelato. Perfetto. Allora... Buongiorno a tutti. Che rischio è? Reale, secondo voi? Beh, il rischio è ancora potenziale, perché naturalmente finché non prendono campo bisogna vedere insomma quello che faranno. Comunque, da una parte, il primo potenziale per tutti è stato l'aspetto concorrenziale, no? Siamo tutti in competizione, tutti noi qui siamo in competizione fra di noi, però c'è competizione e competizione. Naturalmente qui andiamo a competere con una realtà molto diversa dalla nostra, molto più forte, perché gli esempi delle vicende notturne, insomma, ci diranno questo sicuramente è un potere forte che non diventi ancora più forte, troppo forte, perché lì non è più un problema degli agenti immobiliari, secondo me si va un po' su un... Volete avere armi pari? Anche perché mi sembra, il Presidente mi correga... Ciò si fa come Marquez e Lorenzo, davvero? Ecco, mi correga, che voi non potete in qualche modo fare, quando uno viene in un'agenzia immobiliare, poi indicare, no? Per fare un mutuo, per... Il cliente dove... Dovevo fare il mutuo e dove si fa? Quello noi lavoriamo in tutte le manche, con tutte le manche, in questo senso. Direi... Allora, chiedo anche a... Lei rappresenta Di Palma, lei rappresenta i consumatori. Allora, allarghiamo un po' l'orizzonte, perché c'è la vicenda delle due banche, ma ci sono altre istituzioni, la Banca d'Italia, le Autority, no? Ci sono in questo Paese, perché poi io ho visto un carteggio anche del Presidente che ha mandato molto dettagliato, me lo sono letto di risera, perché sono diverse pagine, sia alla Banca d'Italia che all'Autority. Allora, che fanno? Perché poi qui è un Paese strano l'Italia, dove improvvisamente c'è la Banca d'Italia, una struttura molto corposa, con tante persone, ben pagate, ricordiamolo, ben pagate, e poi si scoprono che quattro banche italiane stanno in fibrillazione, hanno i conti in dissesto. Il rischio reale è per i consumatori qual è? Di ritrovarsi una banca che vende immobili e magari posa tutti i dati. E di ritrovarsi anche un mutuo che ti indica la banca. Sono tanti i punti. Io credo che, e questo mi associa assolutamente a quanto diceva prima il Presidente Righi, che c'è della buona politica in Italia. Ogni tanto viene fuori. Il caso ce l'ho qui alla mia destra. Ce l'ho avuto anche prima con il brillante sindaco di Pesaro, se non sbaglio, che dovrebbe appoggiare questa iniziativa di FIAI per un motivo semplice, diciamo. Perché c'è anche un problema occupazionale che potrebbe derivare da tutto ciò, di qualche saracinesca, come diciamo prima, che rimane poi chiusa. È difficile. Qui ci troviamo di fronte a uno sconto tra Golia e Davide. Non so se Davide riuscirà a vincere questa sfida, però Golia è quello che, è vero che la notte l'ha fatta anche il Presidente Righi e l'Onorevole Polidori, però il problema è che le banche hanno un'infinità di mezzi per cui possono fare le notti ad oltranza, mentre loro due prima o poi crollano, diciamo. Questo è il primo dato. Poi ne ho sentita prima una del Sindaco Ricci relativa. Esco un attimo dal seminato, perché ci sono stati parecchi spunti che vengono fuori da questa discussione, almeno per chi l'ha seguita con attenzione come abbiamo fatto io e Caporaso stamattina, essendo arrivati con lo stesso treno, tra l'altro. Vedete, non mi risulta che ci sia l'ipu, l'imposta sul pane. Non mi pare che ci sia l'imposta sul latte. La casa è un bene primario? Sì, tra poco ci sarà. La casa è un bene primario, o lo è o non lo è. Quindi mettere prima le tasse sulla casa per poi levarle non mi pare una cosa molto etica. Ho detto questo, non sfugga la domanda. Io spero che Banca d'Italia, ma soprattutto l'antitrust, intervengano su questa cosa. Non mi aspetto molto dalla Banca d'Italia, mi aspetto di più dall'antitrust, perché qui c'è un danno nei confronti della concorrenza, perché mi pare evidente che ci sia concorrenza sleale in questo. Ma soprattutto perché io capisco che in pancia le banche in questi anni hanno accumulato una quantità enorme di immobili, chissà poi perché, perché poi quello che aveva preso il mutuo probabilmente non riusciva più a pagare, quindi è chiaro che si sono presi l'immobile. Però il problema vero è che non vorrei che ci fosse un sistema per cui, siccome oltre ad avere gli immobili hanno qualche derivato le banche, diciamo che allarghino un po' i loro confini in modo da rientrare in possesso, diciamo, da rientrare un po' da quell'enorme debito e quindi mettersi a fare anche un altro tipo di lavoro. Mi piace molto, e chiudo, ed esco, diciamo, dal seminato, l'ultima, l'amministratore delegato di poste italiane, che è tornato proprio in questi giorni a parlare del suo core business vero, che è quello di fare posta. E quindi elimineremo, non vedremo più negli uffici postali, quelle cose che prima vendevano, diciamo, opuscoli, libri, eccetera, eccetera. Ecco, io dico, e sarebbe opportuno, che le banche continuassero a fare il loro mestiere, non andassero a fare quello degli altri. No, lo tengo, ma... Il loro mestiere, lei ha detto il loro mestiere. Il Presidente Righi mi ha sostenuto a fare una trasmissione televisiva, no, scherzo, a fare un'intervista, quindi poi ritorna. Allora, lei ha detto, ha chiuso dicendo, ognuno deve fare il proprio mestiere. Mi sembra una strada fondamentale, perché qui, poi, ricordiamo un po' tutti come è partita la crisi, no, la crisi mondiale, lasciamo stare il nostro Paese, ma... Perché un po' le banche hanno iniziato a fare un po' di tutto, le banche, tante strutture. Cioè, la banca ha un ruolo sociale. Ricordiamo come è nata la banca, che deve prendere soldi dai risparmiatori e dovrebbe prestarli, poi, a chi ne ha bisogno. Lo chiedo a Deiana, che è un attento osservatore, anche per il suo trascorso, insomma, di tutto quello della realtà sociale del nostro Paese. Lo fanno ancora? È questo che... Qual è il rischio reale, poi, di tutto questo? Perché, secondo me, ognuno dovrebbe fare poi il suo mestiere, altrimenti si accavallano le cose, c'è un'invasione di campo, c'è il rischio, ecco, di incamerare magari dei derivati e altre cose, di penalizzare chi fa il lavoro, in questo caso gli agenti immobiliari, ma potremmo parlare di tantissime altre attività, perché poi, non dimentichiamo che alcune banche addirittura metteranno tra poco gli elettrodomestici, venderanno gli elettrodomestici... Gli hanno già messi... Già lo fanno... Già lo fanno, sì, ma dico, tra poco mi dicono che fare... Assicurazioni, altre cose, le auto, non ne parliamo, quindi... E' vivacissima, li vedo aggueritissimi. Vabbè, lo diciamo a Deiana che ci può dare come indicazione. Ma io... Io qui sono in imbarazzo. Perché? Perché io sono tutte e due. Io sono il presidente di una grande confederazione di associazioni professionali, di cui fa parte FIAP, e nel contempo sono un amministratore legato a una banca investimento, non una banca di quelle due di cui abbiamo parlato, per cui tenterò di darvi tre motivi per rispondere alla domanda del conduttore, per provare a riflettere tutti insieme su dove si va nel futuro. Il primo motivo sul quale ragionare, la prima riflessione importante, io credo che sia quella di andare ad osservare cosa è successo in altri settori. Pensate alla grande distribuzione e ai piccoli commercianti. E' sempre successo che le grandi entità, grandi reti, grandi soggetti hanno piano piano smangiato il mercato di altri. Perché l'hanno smangiato? Perché evidentemente hanno economia di scala, hanno tutta la filiera, adesso parliamo del vostro settore, possono diciamo così collocare il mutuo, vedono il valore mobiliare e via dicendo. E allora l'unico modo per combattere questi grandi soggetti, al di là delle battaglie politiche e giuridiche che evidentemente, io sono molto d'accordo che più che Banca d'Italia sarà l'antitrust, che farà delle riflessioni in materia. Ma al di là di quello, l'unico modo, come dice sempre il mio amico Roberto Barbato, che vedo qui davanti, è quello di alzare il livello di professionalità. Perché tanto alla fine loro non dormono la notte, cambiano gli ordini del giorno, fanno tutto quello che possono fare entità che dispongono di migliaia di filiali. Pensate anche a che sistema a rete sul territorio. Dall'altra parte, questo meccanismo di inglobare mestieri degli altri, come diceva il buon dottor Caporasso, è una cosa che succederà per forza. Perché succederà? Le banche hanno 80.000 esuberi e con l'arrivo sul mercato dei nativi digitali, in filiale non ci andrà più nessuno. E quindi l'unico modo che hanno per attrarre traffico, ve lo dico in questo modo, è quello di riempire di altri contenuti, di chiuderle oppure di riempirle. E quindi da questo punto di vista non sarà soltanto il tema degli agenti immobiliari. Le banche diventeranno dei piccoli centri commerciali con i vostri soldi. E allora è per questo che bisogna anche lì fare una riflessione per alzare il livello professionale. Perché sta già succedendo per il mondo delle assicurazioni. Le banche vendono le assicurazioni, ma i professionisti dell'assicurazione sono molto più bravi. Sono molto più bravi e mantengono una quota di mercato che non è assolutamente paragonabile. Quindi grande attenzione dal punto di vista giuridico, grande attenzione dal punto di vista lobbistico anche, ma anche cercare di capire come andare nel futuro. Dopo daremo lo spazio, perché ci siamo riservati gli ultimi dieci minuti della tavola rotonda per fare delle domande agli ospiti. Quindi tranquillamente poi facciamo girare il microfono e poi facciamo finire gli ospiti. Con una riflessione che è quella di fare reti e fare sinergia con le altre reti. ConfAssociazione nasce per questo. C'è in questo momento 209 associazioni, più di 355.000 professionisti. E serve proprio per spalleggiare la FIAIP nelle sue battaglie, per andare a mettere, non dico adesso, uso un'espressione forte, la pistola sul tavolo, ma almeno farsi sentire perché le reti con tanti numeri sono forse anche più forti delle banche. Grazie Deiana. Deiana ha sottolineato un aspetto che riprenderemo tra pochissimo. Quello della professionalità, come alzare il livello. Magari soprattutto in un momento di crisi questo è già stato fatto, ma ne parleremo nel giro successivo. Però l'On. Polidori devo chiedere. Il rappresentante dei consumatori diceva l'antitrust, perché lei ha fatto questa battaglia in Parlamento, ci ha raccontato degli aneddoti. pochi aneddoti, lo so, perché il Presidente in un'altra occasione, anche in una trasmissione, ha raccontato tantissimi aneddoti di questa battaglia, di questo braccio di ferro. Ma l'antitrust? Perché non rispondono, perché non intervengono la Banca d'Italia pure, insomma? Però mi sembra che sono organismi fondamentali. Non si può accorgere il giorno dopo di tutto questo. Guardi, chiaramente una delle prime domande che io posto al Presidente, lui è una delle prime documentazioni che mi ha passato. Loro hanno fatto ovviamente ricorso, hanno fatto tutto quello che dovevano fare. Chiaro, sappiamo quali sono i tempi, quali sono le lungaggini e soprattutto io faccio fatica a dirlo, ma insomma, quando poi uno entra in politica e viene, io sono lì da nove anni e vengo da un percorso molto personale, diverso completamente dalla politica, vengo da quello dell'associazione, ci si rende conto poi, quando veramente si è dentro, quanto i poteri forti esistano davvero, quanto i poteri forti riescono a rallentare dei percorsi, a rallentare delle risposte. Banca d'Italia, Banca d'Italia le banche. E peraltro non c'è nulla, è questa la distorsione del sistema, non c'è nulla che faccia in modo che a queste banche non sia stato prima, ora nel futuro vedremo, ma insomma non sia stato prima proibita una cosa del genere. Ma guardi che non mi riferisco, perché io condivito molto l'analisi fatta dal dottore, cioè la libera concorrenza a me sta bene, chi è più bravo poi emerge, quindi sono certa che si passa anche attraverso ad una qualificazione del lavoro dell'agente immobiliare, ma dall'altra parte quando io parlo di concorrenza sleale ne parlo perché le banche chiaramente dispongono di informazioni molto sensibili, informazioni che dovrebbero essere anche rispettose, cioè non dovrebbero essere divulgate per il cliente, ma mi preoccupa molto il fatto che quando si dispone di particolari situazioni debitorie, cioè quando noi siamo in debito per X motivi verso questa banca, si è, quindi qui parlo veramente della persona che va ad acquistarsi un immobile, si è veramente dalla parte disperata della situazione. E in questa parte disperata non conta la professionalità di chi vende la casa purtroppo, cioè qui conta che il disperato fa lo scambio che meglio gli si avvicina. Ecco, questa è la cosa per cui io veramente mi sono messo l'anima e il cuore su questo provvedimento. Poi magari Deanna ha detto quest'altro aspetto che mi sembrava interessante perché dice c'è tanta gente, abbiamo visto le ultime notizie su una di queste due banche, dice 9.000 persone che devono essere licenziate, allora diventa un meccanismo di compensazione. Sì, io mi permetto, ci ho ragionato. Però rischio che 9.000 si salvano di là e 9.000 si perdono nel settore degli aggetti mobilitati con un numero per... No, ma detto questo, siamo in una situazione particolare, ora io non voglio di nuovo girare il dito dentro la piaga, ma se lei pensa che prima che si sapesse, poi c'è sempre chi lo sa prima, che qualche banca potesse essere in difficoltà, noi in Parlamento siamo stati costretti, io ovviamente non l'ho votato nel mio gruppo, ad accettare che chiunque avesse un conto corrente, lei dice saranno pochi, però ci sono e se li sono sudati perché i ladri immagino e vorrei sperare che non abbiano il conto corrente in banca, chiunque abbia un conto corrente, anche per pochi giorni, superiore di 100.000 euro, quindi di 100.000 e un euro debba dare alla banca in difficoltà, guardi che questa è una cosa incredibile, qui non si è mossa Banca d'Italia, l'8% dei suoi soldi, cioè noi prima andavamo in banca per, come dice lei, il ruolo sociale, portavamo i soldi perché questi soldi ci rendessero un qualcosa prestandoli a chi ne aveva bisogno, noi adesso con questa norma siamo arrivati ad un salvataggio che ha del ridicolo e questo che serve a mantenere i 9.000 posti di lavoro, bene, allora c'è già questo, non è che possiamo andare a toglierle lavoro a tutti gli altri piccoli imprenditori. Allora, io richiamo invece le parole sempre di Deiana sulla professionalità, perché allarghiamo, abbiamo fatto un'analisi attenta di quello, vedremo poi i passaggi, magari nell'intervento conclusivo il Presidente ci dirà le altre mosse che intende fare da questo punto di vista. Allora chiedo al rappresentante della base, degli agenti immobiliari, come è cambiata in questi ultimi anni, la vostra attività, perché dal disagio magari è uscito fuori anche un modo diverso di fare l'agente immobiliare. Un tempo, lo ricordiamo tutti, chi cercava casa arrivava frotte di persone, ora è il contrario, dovete studiare il territorio, dovete analizzare le persone, dovete intervenire, dovete modellare, siete diventati un po' desarti da questo punto di vista per trovare la casa giusta e trovare l'individuo a cui poter offrire questo tipo di consulenza. Sicuramente la crisi ha fatto una grossa selezione, quindi chi ha superato la crisi sicuramente l'ha superata, non per la fortuna di riuscire a vendere, ma perché se l'è meritato, perché è bravo da un servizio che non credo un grande gruppo possa improvvisare, cioè qui penso almeno i colleghi abbiano tutti almeno dieci anni se non venti di esperienza, quindi grandi gruppi che aprono nell'immediato non so se riusciranno a dare questo storico di esperienza. Naturalmente grandi gruppi esistono anche già adesso, esistono già da anni e stanno in piedi, però non hanno questo doppio legame finanziario legato all'intermediazione immobiliare. Cioè qui il discorso è proprio la concorrenza sì, ma ha pari regole, ha pari metodi. Mani libere, non con la mano legata e l'altro con le due mani. Se ti vende la casa ti viene il dubbio che quel mutuo sia dato perché c'era da vendere la casa e allora il sistema diventa più fragile, perché comunque sono muti e probabilmente un po' più delicati. E allora questa crisi ha cambiato, lo dico alla rappresentata di Consum, ma io chiamo sempre il cittadino perché poi alla fine il consumatore, il risparmiatore è un cittadino. Il cittadino è stato, insomma da questa crisi ha fatto un passo avanti, è più educato o alla fine viene in qualche modo il soggetto debole di cui parlava l'onorevole Poditori quando va in banca, in generale. Guarda, io ti rispondo così e ti rispondo in maniera diversa un po' dalla domanda che mi fai. Io noto questo e credo che voi forse di Fiaip ne siate buoni testimoni. C'è un indebolimento voluto dal Governo ai corpi intermedi della società. Questo non ci sono dubbi. Questo che cosa porta? Perché poi uno pensa Fiaip e pensa che difenda il proprio orticello. In realtà io mi sono ritrovato in Sardegna, tempo fa, con il vostro Presidente Righi a perorare la causa dei notai, che era una causa giusta. Perché poi è paradossale tutto questo, perché sembra che io consumatore debba difendere a questo punto i notai. Io difendo le regole del mercato che ci hanno permesso in questo Paese di avere un certo sviluppo negli anni e che se oggi vai a toccare quelle poche quattro regole tu rischi di creare la giungla e cui poi alla fine mi sa che se ne avvantaggiano soltanto chi è già forte, i famosi Golia. Tra l'altro noi continuiamo a parlare di due Golia, però stiamoci attenti perché se poi passa questa cosa, si moltiplica per tanti quanti sono gli attori e allora alla fine diventa difficile. Noi qui parliamo di due, pensando che sono due, saranno pure due colossi, ma probabilmente se passa la vicenda diventano trenta, quaranta, forse anche cinquanta. Tante passate. Ecco appunto, e allora stiamo a posto. Loro sono già... Eh lo so, vabbè, stanno già avanti. Si attrezzeranno gli altri trenta, venti, trenta soggetti. Se non si riesce a mettere un passetto, è chiaro che succederà. Però ecco, il consumatore oggi com'è? Oggi è disorientato proprio perché i corpi intermedi fanno più fatica a spiegare ai propri clienti, ai propri associati, a tutti quanti quali che sono i veri rischi del mercato che oggi si paventano, ne approfitta chi ha capacità anche comunicative fuori, diciamo, dall'ordinario. Quindi il consumatore oggi è più indifeso di prima, assai più indifeso di prima e ha voglia dire che c'è un aumento della fiducia dei consumatori nel mercato, eccetera, eccetera. C'è un aumento generalizzato di fiducia perché abbiamo toccato il fondo e non si può che risalire, voglio sperare. Però il problema rimane che senza regole o se andiamo ad eliminare le regole che ci hanno portato ad avere un grado di sviluppo buono negli anni, molto buono negli anni, noi rischiamo la giungla, rischiamo anche tra l'altro la lotta dei poveri perché il saldo tra coloro che rimangono occupati nelle banche e coloro che sarà sempre zero. 9.000 che rimangono occupati nelle banche, 9.000 imprenditori che perderanno il posto di lavoro. Poi sono 9.000 più i dipendenti loro, insomma voglio dire il rischio è molto più grande. Deana, allora, ceto intermedio, ormai ci hanno detto tutti, ci hanno fatto le analisi, si è polverizzato, tutti dicono ma qui stiamo arrivando a cittadini di serie A, cittadini di serie B, consumatori di serie A, consumatori di serie B, in qualche modo senza delle regole, cioè calpestare le regole, quante sono importanti? Stabilire, in qualche modo mettere dei paletti, magari cambiarli, perché non è che bisogna anche poi modificarli, cambiarli in base a come si sviluppa la società, ma è un rischio reale questo. Io le faccio un esempio, stiamo parlando di immobili, chiaramente di economia, ma se facciamo riferimento alla sanità c'è da aver paura perché sta diventando così un po'. Un rischio profondo e io vorrei sottolineare quello che ha detto il collega dei consumatori, perché l'eliminazione progressiva dei corpi intermedi non fa male ai grandi, i grandi non hanno problemi ad arrivare e a collassare, diciamolo così, il rapporto direttamente sul consumatore. L'eliminazione dei corpi intermedi fa male ai piccoli ed è per questo, lo ridico ancora una volta, che bisogna fare rete. Se si collabora, se si fa sinergia, si mantengono le regole del gioco, si mantengono i pesi e gli equilibri in quel rapporto che diceva giustamente, prima ascoltavo l'onorevole Polidori, in cui è evidente che poi si deve trovare un equilibrio, la mediazione politica deve trovare un equilibrio, però il problema è che se quelli sono tanti e forti e noi siamo piccoli e pochi, è evidente che i rapporti saranno sempre scompensati, quindi da questo punto di vista l'attenzione alle regole deve essere spasmodica, ma ancora più forte deve essere l'attenzione a fare rete con chi ha gli stessi problemi, i consumatori, le altre associazioni professionali. Pensate a quello che sta succedendo ancora nel vostro mondo agli amministratori di condominio, che pure sono i gestori di queste case, di questi immobili, piano piano anche loro stanno subendo l'invasione di campo di Enel, Eni, le grandi compagnie estere che arrivano in Italia e piano piano anche loro avranno, se non questo problema, un problema simile e quindi è per questo che bisogna fare rete, soprattutto in un mondo, quello della casa, che fa sì che questo Paese al di là della crisi sia ancora la terza ricchezza privata del mondo, dati Banca Italia 8.400 miliardi di euro di patrimonio fra asset liquidi, quindi investimenti finanziari e immobili, 6.200 miliardi di immobili che sono un pezzo di presente, un pezzo di passato e un pezzo di futuro di tutti noi. La casa, insomma lo sappiamo tutti, è il bene ancora oggi, possiamo dirlo, nonostante la crisi, tutto quello che c'è stato, insomma è il bene che tutti quanti desiderano, chiedo sempre all'uomo della base, della gente immobiliare, base ampia, molto ampia, le chiedo perché poi voglio sentire gli altri, hanno tolto la tassa su questo cambiamento anche dal punto di vista di tassazione, è stata tolta questa tassa, magari sentiremo anche il rappresentante della politica, ma questo ha già prodotto un effetto, già lo sentite voi in agenzia, c'è davvero questa effervescenza nuovamente nel mercato immobiliare o sono previsioni? Però sicuramente non guasta, diciamo, poi venendo da danni di austerità, di sacrifici, sicuramente ogni segnale è comunque un'inversione di tendenza, sono segnali di per se stessi che comunque aiutano, sicuramente non guastano. Quindi ci sta un minimo di ripresa? Però non è concretamente ancora tangibile, è solo un segnale, una percezione. Deiana, ma secondo lei questa ripresa, perché qualcuno mi ha detto, sì, da un lato è stata tolta questa tassa, ma c'è la riforma del catastro, ieri ho sentito un'intervista di una persona, abbiamo intervistato proprio sulla questione della riforma della divisione del catastro, poi magari la Tari la aumenta da un altro poco, tutto questo alla fine la persona che vuole magari fare un investimento rischia di un'altra volta di fare un passo indietro perché dice quanto mi costa una cosa del genere, il rischio è che poi sia un giro e si ritorna sempre alla prima casella, una sorta di gioco dell'oca? Ma partiamo da un presupposto, fra il 2010 e il 2013 le tasse sulla casa sono aumentate del 143%, quindi noi tutti dicono no alla patrimoniale, no alla patrimoniale, la patrimoniale già ce l'abbiamo, è quella sulla casa, è quella su quei 6.200 miliardi di euro della nostra ricchezza, quindi, quello è un primo dato di fatto di cui bisogna essere consapevoli, qualsiasi diminuzione di questo rapporto invasivo del fisco con la casa non può che essere ben accetta, però è evidente che si tratterà di una partita di giro, noi continuiamo a fare leggi di stabilità in deficit e quindi significa che quei soldi che noi risparmiamo sulla fra virgolette casa vanno da qualche altra parte, devono essere compensati da qualche altra parte, che sia la Tari, che sia il taglio alla sanità che è stato ricordato e quindi da questo punto di vista l'orizzonte non può che essere quello di rimettere a posto in termini concreti un sistema di tassazione complessivo dove è evidente che c'è qualcuno che sta sostanzialmente facendo festa con i soldi degli altri. Onorevole Poditori, quanto può cambiare il mercato immobiliare con questa revisione del catastro di cui si parla tanto e quanto può modificarlo? Allora, guardi, la verità è che forse le potrei rispondere con una frase che ha detto un dirigente, una dirigente donna molto brava, l'altra sera qualcuno l'avrà visto in una trasmissione televisiva martedì sera, insomma, una delle più note. Quando stava spiegando l'adiminazione di questa tassa, eccetera, eccetera, con ovviamente noi che abbiamo sempre detto non la tassa sulla prima casa, ma soprattutto poi su tutto il resto, non la tassa sulla successione, non la patrimoniale. La patrimoniale effettivamente c'è, non ce l'abbiamo, la casa non è più nostra, no? Voglio dire, oggi se io, ma credo molti di voi, dovessimo ereditare una casa importante, io sarei nelle condizioni di doverla rifiutare. Cioè sarebbe una disgrazia oggi ereditare una casa, no? Perché non si è in grado di poterla gestire, ovviamente. Allora, la cosa che è importante è stata la risposta che ha dato. L'ha detto lei, per cui non lo voglio dire io, ha detto, beh, è ovvio, proprio è ovvio, che la coperta è quella e quindi, anche se si toglie la vecchia IMU, comunque ci sarà l'aumento di qualche altra tassa. È chiaro che se si continua a fare leggi di stabilità in deficit, e qui concordo pienamente con quello che ha detto il dottore prima, noi non se ne verrà mai fuori. Cioè le leggi di stabilità vanno fatte prendendo soldi dai tagli, che è l'unica cosa che si può fare. Ma abbiamo visto che sulla spending review se ne sta andando più di una persona, insomma, perché per carità di Dio non è una cosa semplice, ma poi, si sa, non si vogliono toccare alcuni interessi. Basterebbe fare un minimo accenno, chiunque di voi si sia trovato in una situazione critica, magari familiare, un minimo accenno pensando alle case farmaceutiche. Cioè, noi stiamo spendendo talmente tanto, semplicemente perché c'è un cartello fortissimo delle case farmaceutiche, e noi in sanità stiamo pagando una chemioterapia quattro volte di più, magari quella che viene pagata da un'altra parte. Quindi questa riforma, secondo me, porterà veramente a poco. Deiana voleva intervenire su questo punto. No, una battuta soltanto a proposito del rapporto fra banca, cittadino e fisco. Qualcuno, in maniera straordinariamente importante, in tempo passato ha costretto le banche a dire qual è il proprio TAEG, cioè il proprio tasso effettivo globale che si va a pagare in caso di prodotti finanziamenti. Perché noi non chiediamo mai allo Stato qual è il suo TAEG nei confronti del fisco, quello che i tecnici chiamano total tax ratio. Perché non ce lo devono dare? Perché ognuno di noi non deve sapere complessivamente se paga il 53, il 45, il 36 e c'è questo invece insieme di tasse che giocano come vasi comunicanti. Questo è uno dei grandi problemi che dovremmo porci. La flat tax. Questa è la proposta e per me è anche da mettere in Costituzione. Non è possibile che in uno Stato normale venga prelevato dal 50 al 70 per cento sul lavoro dei cittadini, degli imprenditori, della gente. È assolutamente inaccettabile. C'è una sola soluzione. Capire quanto può al massimo pagare un cittadino di tasse per avere in cambio cosa poi? Per avere in cambio servizi e metterlo in Costituzione. Questo è l'unico modo per poterci salvare. Se io posso vorrei tentare di votare la fiducia, non ce la farò, ma almeno gli ordini del giorno dato che ci sono tenterei di andare. Io vi ringrazio. Grazie a tutti davvero. Aspetta Presidente, grazie. Una sola cosa. Io ci sono. Nel senso che ora dateci un mese e mezzo per riprenderci, ma io sono assolutamente a fianco alla FIAP. Come avete capito, la sento molto questa battaglia, perché per me è una battaglia di giustizia. Quindi diciamo che a gennaio, se ci darete tutti una mano, perché poi abbiamo bisogno che ognuno di voi ne parli, nei luoghi deputati a parlarne, che sia sui social, che sia sui giornali, fatelo, perché questa è veramente una battaglia di dignità per chi lavora in proprio. Arrivederci. Salutiamo l'onorevole Polidori. Allora, Presidente, io direi, sentiamo anche, vorrei fare una domanda al rappresentante. Io guarda, solo una battuta. Così, se non vengono abbattute le tasse sulla casa, non ripartono le vendite, non riparte la ristrutturazione e quindi l'edilizia, non riparte il Paese, perché il Paese si basa anche il suo miracolo economico di tanti anni fa. Partì dalla casa e la casa è il bene primario degli italiani ed è sempre stato il famoso bene rifugio degli italiani. Se non riscopriamo questo, io non credo che riusciremo ad uscire da questa crisi in cui ormai ci avvitiamo continuamente come un cane che si morde la coda. Quindi qui il messaggio non può che essere uno. La casa va tutelata, il mondo della casa va tutelato, perché quella è la nostra unica vera opportunità. Io non credo che lo sviluppo passerà per le auto, non credo che passerà per fare il ponte sullo stretto di Messina. Io penso che partita da una cosa semplice, comune, se vogliamo banale come quella della casa. Presidente, poi magari so che qualcuno va a fare delle domande, perché ho visto tante voci dalla platea, magari per raccordare un po' il tutto. Insomma, questa casa una volta era il bene che si tramandava, da padre in figlio, poi magari il figlio lavorava e cercava di acquistare un'altra piccola casa, una casa al mare. Non è pericoloso anche dal punto di vista sociale, perché lei me lo insegna e tutti quanti voi che state in platea, c'è una crescita della cosiddetta nuda proprietà. Quindi tantissime persone anziane che si tolgono quella casa a cui erano particolarmente legate. Insomma, c'è anche un rischio dal punto di vista sociale di rompere? Il rischio è assolutamente... lo sentiamo ormai dal 2011, perché al di là dell'impatto sociale sulla casa, un Paese che ha l'82-83% di tasso di proprietà è un dato sociale, non è che lo puoi cancellare e come qualche politico dice, ah che bello stare in affitto, siamo proprietari, a chi le vendiamo le case. Ma c'è una parte della politica ed è una teoria che in Europa è stata portata avanti, per cui copiata dai Paesi del Nord, in Germania ad esempio il tasso di proprietà è del 41-42%. E qualcuno mi dice, ma come mai il tasso di proprietà è del 41-42%? Perché abbiamo la memoria corta, no? Cioè c'era il Paese dell'Est, nei Paesi dell'Est la proprietà non era ammessa, erano tutti in affitto. Quando si sono riunite le due Germani e da una parte c'erano i proprietari e dall'altra c'erano gli inquilini. Quindi la cultura è quella dei Paesi dell'Est e molta parte dell'Europa ha questa concezione ancora, no? In fondo il muro di Berlino è caduto l'altro giorno, a noi sembrano decenni. Allora il tema qual è? E' che noi abbiamo, lo dicevo anche ieri, dobbiamo renderci conto delle caratteristiche del nostro Paese. Se noi non ci rendiamo conto delle caratteristiche del nostro Paese a livello sociale, a livello economico, c'è anche la distruzione della classe media per andare contro, lo sentivamo ieri, no? Anche dal Presidente della Camera di Commercio, che voglio dire è uno dei più noti imprenditori italiani, non è quello che non capisce le cose, come può essere sembrato, anzi. Ma c'è un'idea anglosassone sul modello anglosassone, no? Che mal si attaglia al nostro Paese. Allora, l'anglosassone, il modello anglosassone è quello per cui tu puoi fare tutto tranne quello che ti vieta la legge. Noi italiani abbiamo 8.000 norme, 8.000 norme, collidenti tra loro, per esprimere un concetto. E' chiaro che il modello anglosassone è quello, diciamo, che idealmente è più corretto. Il problema è che noi siamo in Italia. Noi siamo quelli dove, non so adesso per dire, dopo Roma capitale, il primo appalto, li avevano già arrestati, il primo appalto del Comune di Roma li hanno arrestati ancora una volta. Cioè, capite, noi siamo questi qua. Cioè, è una classe, c'è una classe che fai fatica, anche dirigente, che fai fatica a gestire in un certo modo. E allora ecco che, a mio parere, il tema della tassazione, il tema della casa va affrontato pragmaticamente per quello che siamo. E senza ideologie. Perché io sento ancora una volta parlare, ad esempio, di emergenza casa. Io quanto sento uno che parla di emergenza casa, sto male. Ma perché emergenza abitativa? Perché le fasce più deboli non è che le deve gestire il mercato libero. Cioè, non le deve gestire mio zio che ha comprato una casa dopo 40 anni e l'ha data in affitto e non riesce a liberarla. La deve gestire la politica con le case popolari. Poi vai nelle case popolari e sono tutte occupate, non c'è questo, non c'è questa. Ma non è colpa degli imprenditori o dei proprietari di casa. Allora, secondo me, il Paese deve darsi un altro assetto. Io spero veramente che l'ingresso di persone giovani in futuro, lo dicevo per FIAI, ma lo dico anche per la politica, ne abbiamo avuti due esempi oggi, Matteo, Katia, cioè persone che hanno amministrato, hanno fatto impresa, hanno vissuto quello che era la realtà e quando ti metti a parlare con della gente che sa quel che dice, non conta destra o sinistra e sono persone che sanno confrontarsi, capiscono i problemi. Questa è la realtà. E allora sai, il tema è, quando tutti i rapporti, l'avete visto oggi un pochino e anche ieri sera, con una classe dirigente, tu puoi anche fare in questo modo, come molti vogliono fare, gli sputi addosso tutta la tua cattiveria, tutto quello che non va bene, quando gli hai ben detto anche, perché ogni tanto me lo dicono, ma perché non gli dici con loro che? E poi che cosa succede? Quando gli hai sputtato addosso tutto e non sei invece riuscito a creare un filo conduttore, ti hanno ascoltato una volta, vai a casa e dici, come fanno qualche due delle associazioni, gli ho cantate quattro e poi hai finito. Il lavoro di Fiaip in questi sei anni è stato proprio quello di portare avanti relazioni, non per andare a spargere il verbo assolutistico degli agenti immobiliari, ma per convincere le persone della propria bontà. Questa è la democrazia, questo è il modo di collaborare. Poi puoi vincere o puoi perdere, l'abbiamo visto con le banche. Allora, sapete, io ve lo dico, siamo in tanti, in associazione, ognuno ha il suo, no? Siamo qui, ne parliamo. Però guardate che la strada è questa qua, è quella del dialogo, è quella del lavorare con le istituzioni. Noi siamo un po' rovinati, lo dico, proprio perché la politica, quando io sento dire, ad esempio, da un esponente del centro-destra che Grillo è come Hitler, ad esempio, a mio parere è un errore fantastico, cioè più di così non puoi, ma come? Sono cittadini eletti, ti hanno eletto, ti hanno votato. Ogni rappresentante della politica ha la sua dignità. Poi c'è quello più coglione, meno coglione, ma quello è un altro discorso. Allora, abbiamo rispetto, perché lo dicevo ieri, la politica ci serve, non la possiamo semplicemente mandare a quel Paese. La politica ci serve, la buona politica ci serve. Penso che se la politica riuscirà a comprendere, e mi taccio, che dobbiamo valorizzare le caratteristiche del nostro Paese, che sono quella della piccola e media impresa, e delle professioni, e dell'edilizia, allora molto probabilmente saremo tutti più felici. Però non diamo tutte le colpe solo alla politica, perché se sto Paese è messo così, qualcosa anche noi l'avremmo fatto di sbagliato. Io non ci credo che è tutta colpa di o Berlusconi, o Monti, o Renzi, o... dite tutti i nomi che volete. Qualche cosa di sbagliato l'avremmo fatto anche noi. Allora, un'autocritica anche di colori quali, no? Oggi parliamo di rete e di condivisione. Noi siamo la categoria più single del mondo, cioè proprio non... cioè siamo tutti... siamo in 600 qui dentro, ognuno è il più bravo, il più intelligente, tutte queste... ma perché la nostra caratteristica, no? Bene, se noi avessimo ragionato dieci anni fa o quindici anni fa, in termini di rete, di creazione della rete, di creazione di flussi di interesse, di modalità, molto probabilmente oggi non sarebbero le banche a fare gli agenti immobiliari, sarebbero gli agenti immobiliari a fare le banche. In realtà è una patologia italiana, no? Più che degli agenti immobiliari siamo tutti quanti un po' individualisti, non riusciamo a fare squadra drammaticamente in questo Paese. Allora, se qualcuno vuole fare delle domande, ecco, magari se c'è un microfono, riusciamo a dare, ecco, sta arrivando, così facciamo l'ultima parte con domande e risposte, sedite anche a chi volete rivolgere la vostra domanda. Buongiorno a tutti, sono Fabrizio Gatto del Collegio di Treviso. Quello che vorrei sapere dal parterre che c'è è quale risposta dobbiamo dare agli associati, perché qui abbiamo fatto tanti bei discorsi, molto interessanti, tuttavia quando arrivo a casa dovrò dire agli associati che atteggiamento dobbiamo ottenere con questi istituti di credito che abbiamo demonizzato? Qual è l'atteggiamento costruttivo? Ne abbiamo sentito uno della rete, ne abbiamo sentito altri. Abbiamo qui anche BNL, ci sono altri gruppi. Quello, mi aspetto da voi, è un suggerimento su quello che dovremmo fare. Ok, vediamo di rispondere. Rispondo immediatamente, ma puoi rispondere anche tu, perché siamo l'associazione uguale. Ma guardate, il tema è semplicemente questo. Noi intanto, come linea della FIAI, noi non siamo contro le banche. Le banche sono necessarie per la vita del Paese, perché se chiudessero le banche domani noi saremmo rovinati. Le banche sono una parte importante dell'economia. Ci sono due banche che hanno scelto di fare gli agenti immobiliari. Lo ribadisco oggi, ma l'ho detto ieri. A noi, sul lato concorrenziale, a noi professionisti, le banche ci fanno un baffo. Non è questo il punto. Il punto, però, è che molti colleghi continuano oggi a mandare il cliente in banca. E casomai lo mandano a Unicredit e lo mandano a Intesa. Quando il cliente è mandato dall'agente immobiliare, che non si vuole occupare di contattare un mediatore creditizio, così, va in banca, gli propongono l'immobile. Allora, noi come FIAI, 4-5 anni fa abbiamo fatto una società di mediazione creditizia, per l'amore di Dio, ce ne sono anche altre. Ma la linea è quella di dire, non mando più il cliente in banca. Gli dico, guardate, c'è un mediatore creditizio che ha 15 banche. Cioè, noi, la linea che deve uscire, secondo me, come la penso io, è che questi due o tre giorni, ne parleremo oggi con tutto il comparto immobiliare e con la rete, dobbiamo imparare a tenercele le nostre cose. È la stessa cosa dei portali. Il valore di un agente immobiliare, che cosa è sempre stato? L'informazione. Se tu hai una cosa in esclusiva ed è tua, sei tu che decidi come la condividi. Noi che cosa abbiamo fatto, noi agenti immobiliari italiani? L'abbiamo sputtanato la nostra informazione, scusate la volgarità, abbiamo pagato per metterla fuori, per metterla fuori, e che cose sono serviti i portali agli altri colleghi per vedere dove avevi l'esclusiva e andare a chiedere dammi l'esclusiva a me, anziché. È vero o no? Mi sbaglio? Allora, questa autocritica che io sto facendo, anche nei miei confronti, ci deve aiutare a comprendere che dobbiamo sicuramente riuscire, uscire da questa assemblea con una linea ben precisa, che è quella dell'MLS, delle reti, delle microreti. Fate quello che volete, la FIAB non impone niente, ma fatelo, perché il futuro è quello lì, cioè la rete dell'informazione. Se noi riusciamo a tenere l'informazione dentro da noi, cioè nei nostri uffici, e porla noi stessi al pubblico come desideriamo, ma essendo noi gli attori, lì, allora siamo vincenti. Altre domande? Vedo lì. Esatto. Innanzitutto devo ringraziare assolutamente Paolo Righi perché ha parlato dello spirito di appartenenza. Spirito di appartenenza che per quello che mi riguarda andrebbe assolutamente incentivato, agevolato di più, di più, anche del semplice associato. Io invece voglio fare una riflessione e vorrei che qualcuno in qualche modo mi smentisse. La situazione della tassazione immobiliare. Vi siete mai domandati del perché? Io ci ho provato e sono arrivato malauguratamente a una bruttissima conclusione. Ho cominciato a lavorare quando le tasse erano, l'imposta di registro per l'acquisto era solo ed esclusivamente il 10% e si spendeva poco a comprare solo dall'impresa, dai privati si spendeva sempre il 10% e c'era l'Invim, quindi la tassazione immobiliare era pesante, non c'era quella che riguardava la proprietà. Io ho l'impressione che i governi che si sono succeduti si siano detti ma quale può essere il sistema per spremere gli italiani? Facciamogli spendere i soldi in un qualcosa che possiamo verificare in ogni momento. Ci servono 10 miliardi di euro, ci sono gli immobili. Quando abbiamo convinto tutti gli italiani che il migliore investimento assoluto è quello dell'immobile, gli abbiamo portato via tutti i soldi che avevano dalle altre parti, negli investimenti finanziari, nei fondi, sotto il materasso, li abbiamo identificato dove andare a prendere i soldi. Mi sono sbagliato? Qualcuno che mi risponda? Allora io direi di far rispondere ai nostri due ospiti. In realtà io aggiungerei che oltre al settore immobiliare, un altro settore che si ragiona così, quando il governo, qualsiasi governo, ha bisogno di soldi, dove si va? O dai pensionati o sulla casa, perché sono tutti tracciabili da questo punto di vista, tutti ben individuati, come diceva il nostro interlocutore. Allora, un minuto e un minuto, i nostri rappresentanti dei consumatori. Purtroppo non gli posso dare torto, nel senso che l'hai detto proprio poc'anzi tu. Le cose più tracciabili sono i redditi da lavoro dipendente, i conti correnti e la casa. Quindi siccome in questo Paese c'è un alto livello di evasione fiscale, che hanno fatto? Come dicevi giustamente tu, hanno colpito il bene primario degli italiani, quello più semplice, quello più verificabile, quello che poi l'82%, come diceva giustamente Righi, hanno gli italiani e quindi ha colpito l'82% della popolazione in maniera scientifica. Grazie Di Palma. Diciamo l'ultima domanda, perché poi dobbiamo chiudere. Non vedo con le luci se c'è qualche altro. Guarda, dico io una cosa per chiudere. Intanto hanno fatto gli auguri oggi a Pigi, però ieri era il compleanno di Gennaro Pecchie, quindi proprio compleanno passato all'Assemblea è fantastico. Poi volevo ringraziare Angelo, oltre a tutti gli altri, perché guardate, noi di solito siamo autonomi e lo siamo anche in questo caso. La nostra entrata in confassociazioni ha leso la nostra rappresentanza politica. Però vi voglio anche dire una cosa, che questa persona sta facendo tanto per il comparto delle associazioni, è una persona che effettivamente vi invito a seguire anche nelle manifestazioni di confassociazioni, perché è una delle persone illuminate, ce ne sono alcune nel contesto, che ragionano così da anni. Il fatto di ragionare sulla rete di impresa, sentivo ieri in Ursi, anche lui mi sembra abbastanza illuminato, cioè a Trieste hanno messo su 52 agenzie, altri hanno fatto consorsi, cioè in Italia abbiamo un esempio in FIAIP, tanti esempi in FIAIP. Allora, la strada è questa qua, quindi ti ringraziamo per quello che fai tutti i giorni. Voglio ringraziare Lorenzo, perché ogni tanto la base invece è stato appostissimo, corretto, bravo, grazie. E poi una cosa importantissima, ci rivediamo alle 14.30, chiudiamo, adesso andiamo in pausa, perché poi c'è la parte con i nostri colleghi esteri e Raffaele Dedemo. E poi c'è il dibattito dalle 15 alle 17, poi abbiamo due ore in cui facciamo il sunto della giornata, io spero preparatevi gli interventi, perché oggi discutiamo di agenti immobiliari, di mercato con gli agenti immobiliari e con tutti, avete visto il programma, e dalle 5 in poi ragioniamo noi su tutto quello che abbiamo sentito stamattina, oggi pomeriggio, e io spero veramente che possiamo discutere di cose e uscire veramente più arricchiti. Grazie. Grazie a tutti.